Una tappa a Corfinium per visitare resti archeologici dell'antica città, luogo simbolo per la nascita del nome Italia con l'obiettivo di valorizzarne le bellezze. Comincia così la giornata di Giovanni Legnini, candidato presidente alla regione Abruzzo di una coalizione con otto liste. Che cosa ci dice di questa sua visita? Che si tratta di un luogo simbolo molto identitario della nostra regione, un luogo che con il sindaco abbiamo deciso quando io sarò eletto presidente della regione di fortemente valorizzare. Fortemente valorizzare perché qui si unirono i popoli italici, qui si costituì la lega italica, quella buona, quella vera, i Vestini, i Merruccini, i Frentani, i Peligni, gli Equi, i Marsi. Questi popoli che costituiscono la comunità regionale, che ci tiene alla propria autonomia, che ci tiene alla propria storia, alla propria cultura e che all'epoca riuscì a respingere invasioni, tentativi di soppressione di questa autonomia, di questa identità. Il presente siede tra il passato e il futuro e deve tenerle presenti entrambe, così disse Don Milano a proposito della funzione della scuola, io lo dico a proposito del nostro progetto politico, che tiene conto della memoria, della nostra storia, della nostra identità, appunto, per costruire un futuro migliore. Qui venne utilizzato per la prima volta la parola Italia, qui si unirono i popoli, noi siamo portatori di questo messaggio di unità della nostra regione, ma anche di forte autonomia della nostra regione. Il sindaco di Forfinio, di cosa ha bisogno questo luogo? Ma di attenzione, come quella che è stata testimoniata poco fa da Giovanni Legnini, di dialogo costante, perché c'è un grande patrimonio di storia, di identità, di cultura, che naturalmente è custodito da questa comunità, che da sola però non può proseguire questo lavoro, un lavoro importante che proseguiremo insieme alla regione Abruzzo con Giovanni Legnini e come sta già succedendo con l'intervento dell'Università Abruzzese, che qui lavora tutti gli anni.